eeeh che riscritti eccoci questo nuovo video di minecraft snapshot oggi mi trovo nella snapshot 1.16 pre-release numero 3 e non è propriamente una snapshot è una pre-release oggi infatti le cose saranno un pochino diverse perchè non andremo a vedere soltanto una versione ma ne andremo a vedere ben 4 e sono la 20w22a quindi l'ultimo snapshot e poi le 3 pre-release che l'hanno seguito per chi non lo sapesse le pre-release non sono altro che delle versioni che stanno a indicare l'ultimo stadio di sviluppo di una versione di minecraft questo vuol dire che dopo la pre-release c'è la versione ufficiale quindi la 1.16 è proprio dietro l'angolo mojang stessa ha detto che entro due settimane saremo in grado di giocare alla 1.16 versione completa versione stabile come vedete non ho preparato neanche il set per questa snapshot anzi per questo video per queste 4 snapshot se vogliamo dirlo perchè ci sono veramente tante novità e tante modifiche anche a livello tecnico per cui fare un set gigantesco non sarebbe stato utile piuttosto parliamone tra l'altro per chi non lo sapesse qui sotto la barra del video dovreste vedere dei titoli e delle sezioni ogni sezione indica una parte del video probabilmente adesso vedrete ancora la intro e a breve dovrebbe partire la prima sezione che andremo a esplorare ossia la sezione gameplay quindi eccoci nella sezione gameplay si in realtà non è cambiato molto è soltanto che youtube ha voluto aggiungere questi capitoletti per suddividere le parti all'interno di un video e ne sto facendo buon uso quindi cosa è cambiato a livello di gameplay importante suddividere questa parte in due parti ovvero gameplay creativa quindi quello che riguarda soltanto la modalità creativa del gioco e il gameplay generale adesso in creativa potremmo utilizzare il secchio vuoto per prendere il latte dalle mushroom e dalle mucche normali questo prima non era possibile non so che utilità abbia visto che il bucket di milk possiamo tenerlo qua e le mucche non cambiano molto se li togliamo il latte quindi andiamo avanti altro cambiamento che riguarda ancora le mushroom è che adesso possiamo prendere la zuppa di funghi facendo tasto destro su di essa una cosa che sto notando è il fatto che questa modifica finisce con il riempirti l'inventario di mushroom stew e secchi di latte anche qui non ne vedo l'utilità visto che la stew essendo in creativa è disponibile semplicemente cercando stew, mushroom stew, zuppa di funghi quest'altra modifica invece è molto interessante e riguarda l'acqua e i secchi vuoti precedentemente utilizzando un secchio vuoto su dell'acqua il nostro secchio pare venisse rimpiazzato con un secchio pieno d'acqua giustamente mentre adesso vedete il secchio con l'acqua viene aggiunto al nostro inventario e il secchio vuoto ci rimane quindi noi possiamo continuare ad usarlo quanto ci pare e guardate bene non ci sta riempendo questa volta l'inventario di secchi di acqua quindi se abbiamo il secchio d'acqua non verranno aggiunti altri se non lo abbiamo invece ci verrà creato un secchio contenente l'acqua diciamo che questa modifica potrebbe essere molto utile nel caso stessimo cercando di togliere dell'acqua quindi basta fare così e l'abbiamo tolta tutta senza doverci piazzare sopra i blocchi e poi riromperli molto interessante questa mi piace ora andiamo a vedere tutte quelle novità che riguardano il cambiamento al gameplay generale di minecraft per vedere il primo cambiamento a livello di gameplay bisogna andare all'interno del nether adesso spawnerò qui un pochino di piglin perché il cambiamento riguarda proprio loro e si tratta di una danza celebrativa nel momento in cui uccidono un oglin attenzione c'è soltanto il 10% di possibilità che la facciano quindi adesso aspetteremo e vedremo se qualcuno di loro ha intenzione di ballare sempre se vogliono attaccare quel povero oglin ok è iniziato lo scontro attenzione contro di chi non ne ho idea vediamo è iniziato nessuno che danza veramente nessuno che danza ce ne vuole di sfortuna ok beh quindi ci ho provato sono da 10 minuti all'interno del nether cercando un piglin che balli dove aver ucciso un ugglin non l'ho trovato quindi vi metterò a schermo l'animazione gentilmente presa dalla wiki ufficiale di minecraft e sbatte le braccia come fosse un uccello non è un uccello lo sappiamo tutti quanti è un maiale ci ho provato scusatemi se non sono riuscito a farvelo vedere nel mondo propongo di restare nel nether anche per vedere quest'altra modifica e intanto per chi fosse nuovo qui sappiate che ho iniziato una serie di sopravvivenza nel nether se volete vederla sono usciti già i primi due episodi non sta andando benissimo comunque dovrebbe apparire la scheda in questo momento e io ho qua uno strider che vabbè se n'è andato mi serviva per il video comunque quest'altra modifica è il fatto che non si potrà più salire sopra una creatura o una qualsiasi entità quando si sta premendo shift precedentemente questa modifica cosa faceva? ci faceva salire e poi shiftava quindi scendevamo istantaneamente dall'entità sapete che non è molto 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 bello salire su uno strider e poi scendere subito perché si sta tenendo premuto shift quindi gli sviluppatori semplicemente hanno fatto che se stai tenendo premuto shift non puoi salire su un'entità restiamo ancora nel nether perché sono state aggiunte due nuove game rule che riguardano principalmente i mob all'interno di questa dimensione la prima game rule è questa universal hunger in che cosa consiste? come dice il nome ovvero rabbia universale permette di far arrabbiare un qualsiasi mob neutrale in questo caso ce l'ho davanti lo zombie fight piglin contro tutti i giocatori e non solo quello che l'ha colpito quindi se ci dovessimo trovare su un server e io finisco con il colpire questo zombie fight piglin lui non sarà arrabbiato soltanto con me ma sarà arrabbiato anche con tutti gli altri giocatori solo se questa game rule è impostata su true quindi true vuol dire che la rabbia è universale per i mob di tipo neutrale mentre false vuol dire che se la prenderà soltanto con chi gli ha fatto male ovviamente nel caso in cui uno dei giocatori che i zombie fight piglin stanno cercando muoia quel giocatore non sarà più considerato bersaglio da parte delle entità almeno che noi utilizziamo l'altra game rule ossia forgive dead players ossia perdona i giocatori morti se postiamo forgive dead players su false gli zombie fight piglin continueranno ad essere arrabbiati con i giocatori anche dopo la loro morte quindi praticamente l'unica via di fuga è ucciderli oppure tornare nell'overworld al contrario invece se impostata true una volta che il giocatore sarà morto gli zombie fight piglin smetteranno semplicemente di inseguirlo e concentreranno le loro forze su qualcun altro di base la game rule universal hunger è impostata a falso quindi gli zombie fight piglin non saranno arrabbiati nei confronti di tutti i giocatori quando un solo giocatore li colpirà mentre forgive dead players è abilitata di default quindi morendo gli zombie fight piglin smetteranno di inseguirci altro cambiamento è il fatto che adesso le fortezze del nether sono leggermente più comuni da trovare all'interno del nether non so perché abbiano fatto questo cambiamento ma credo che sia dovuto ad una conseguenza del fatto che aggiungendo biomi magari le fortezze spawnavano in quantità minore rispetto a prima perché adesso sono presenti altre strutture da creare e quindi semplicemente devono ribilanciare le fortezze per la prossima novità bisogna andare sotto la lava non prima però di aver bevuto una pozione di fire resistance sì la novità riguarda proprio questo le pozioni di fire resistance adesso funzioneranno come una sorta di night vision sotto la lava quindi sotto la lava vabbè adesso ho il fuoco però vedete si vede molto di più avendo una pozione di fire resistance tra l'altro io non ho mai visto sotto la lava quindi questo è notevolmente meglio giusto per completezza beviamo un secchio di latte per vedere quello che in realtà non vedremmo senza la pozione di fire resistance praticamente vedremo soltanto l'angolo del blocco su cui stiamo sbattendo e poi moriremo brutalmente nelle fiamme invece con la pozione di fire resistance vedete che la visibilità è migliorata tantissimo le fiamme avendo fire resistance sono molto ingombranti perché l'esplorazione è già difficile visto che non si vede niente se tolgono le fiamme fanno un favore almeno quando si affa il resistance ultimo cambiamento riguarda un modo di essere dei piglin infatti per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse i piglin attaccano chiunque provi a toccare qualsiasi cosa sia fatta d'oro che sia il nether gold ore che sia una cassa contenente qualcosa d'oro o che sia semplicemente un blocco d'oro che avete piazzato voi vicino a casa vostra prima un attacco da parte dei piglin avveniva soltanto se questi avevano una linea visiva diretta con chi stava effettuando questa azione mentre adesso funzionerà anche se i piglin non avranno una linea di tiro comunque visuale su chi sta compiendo questo atto così immondo adesso andrò in survival e per il bene della scienza vi faccio vedere come i piglin stanno lì dietro rompo questo gold ore e mi vengono a cercare brutalmente salve signor piglin che bello vederla per chi non fosse al corrente sempre nella mia nether survival una delle mie vite è andata persa proprio per un motivo del genere soltanto che lì avevano una linea visiva con me questo andrà soltanto a complicare le cose e non sono per niente felice di questo ma il nether è fatto così deve essere pericoloso quindi dovrò abituarmi anche a questo cambiamento per il prossimo cambiamento bisogna trovare un villaggio in realtà non proprio ci serve un villaggero perché riguarda proprio un villaggero e una delle sue trasformazioni nel caso viene colpito da un fulmine per chi non lo sapesse un villager colpito da un fulmine farà una brutta fine e diventerà una strega grazie a questo comando sono in grado di far spawnare un fulmine quindi credermi Zeus sopra questo villager quindi vedete lui è diventato cioè lui lei ormai è diventata una strega e questo golem mi ha appena rovinato il set ok per fortuna ci stavano altre streghe qui dentro altri villager che sono stati colpiti dallo stesso fulmine e vedete queste streghe ora non scomporiranno più quando ce le otteneremo ossia sono diventate persistenti dopo essere state colpite da un fulmine ovviamente tutto se prima il golem non le fa fuori l'ultima novità del gameplay riguarda il campfire sia quello normale sia quello ovviamente di soulfire e in particolare la sua versione spenta quindi quella senza fuoco adesso infatti sarà possibile aggiungere il cibo sopra un campfire anche quando è spento non solo quando è acceso ovviamente poi riaccendendolo il campfire inizierà il suo processo di cottura del cibo e avremo il nostro cibo cotto adesso passiamo alla sezione dei cambiamenti alle impostazioni di gioco anche se qui in realtà è proprio piccola piccola perché è soltanto una nuova impostazione all'interno delle impostazioni grafiche e in particolare grafica infatti adesso si è aggiunto un nuovo tipo di grafica che si chiama Fabulous certe volte quelli della Mojang se ne escono con nomi davvero strani per chi non lo sapesse la grafica può essere di tre tipi fast praticamente è così quindi le foglie non hanno trasparenza e molti altri blocchi sono renderizzati male tristemente se posso dirlo così quindi fancy quella diciamo che bilancia grafica e performance infatti vedete le foglie adesso sono trasparenti però comunque abbiamo stiamo parlando di minecraft e di grafica non c'è molto da discutere però tra fast e fancy questo è il cambiamento più importante le foglie che perdono o acquisiscono trasparenza e poi abbiamo Fabulous che è appunto quella che è stata aggiunta con questa pre-release leggendo la descrizione dice che utilizzerà delle shader per disegnare il tempo quindi per generare gli effetti atmosferici le nuvole e le particelle dietro i blocchi trasparenti o traslucenti e l'acqua dice anche che questa modalità grafica potrebbe impattare le performance sui dispositivi portatili quindi laptop e display 4k ricordo comunque che stiamo parlando di minecraft e io continuo a non vedere cambiamenti è che se non ho provato con il tempo con il medio quindi proviamo a far piovere eeeh si e no però vedo ad esempio alcune gocce sono più chiare delle altre potrebbe essere questa la modifica non so a cosa è dovuto però vedete adesso mi trovo in fancy e non lo fa quell'effetto mentre in Fabulous si le gocce sono come dire più naturali a questo punto mettiamo anche le nuvole wow guardate le nuvole sono colorate qua è più giallo rispetto che strano lì è più giallo questo in fancy non accadeva invece si accadeva sono io stupido bah che strano comunque questa è la nuova impostazione grafica Fabulous che ancora non si è capito cosa faccia per la precisione però ehi per chi vuole vantarsi di avere tutto ad ultra mettete Fabulous torniamo ora alla schermata del titolo perché queste novità riguardano la creazione e la gestione dei mondi in particolare la prima modifica riguarda la schermata di creazione di un nuovo mondo è questo pulsante datapacks con cui sarà possibile selezionare i datapacks da voler utilizzare all'interno di un mondo prima della sua effettiva creazione cliccandolo verrà aperta questa schermata molto simile a quella di selezione delle resource pack in questa schermata è presente questo pulsante open pack folder che aprirà con il nostro esplora file una schermata di una cartella temporanea del mondo dove sarà possibile inserire tutti i datapacks che vogliamo utilizzare all'interno di questo mondo ovviamente una volta creato il mondo tutti i datapacks verranno poi copiati nelle rispettive cartelle della cartella definitiva del mondo vi faccio vedere ad esempio qua sulla sinistra vedete il datapack della nether survival adesso vedete posso trascinarlo all'interno di questa cartella tornare qui fare done c'è sempre questa cosa e poi ritornare su datapacks e vedete che appare il datapack c'è poi anche un altro cambiamento all'interno della schermata di datapack e di quella dei resource pack però vediamolo prima con i datapack vedete qua sulla destra ho uno zip chiamato nether survival che altro non è che il datapack della nether survival adesso io posso trascinarlo direttamente all'interno del gioco in questo modo e mi chiede vuoi aggiungere questo datapack a minecraft nether survival al punto zip cliccando yes il datapack viene automaticamente aggiunto al mondo e io posso decidere se abilitarlo o meno in questo caso mi dice che è fatto per una versione più vecchia di minecraft probabilmente perché non è ancora adatto alla 1.16 basta cambiare un paio di cose e poi sarà risolto portando il datapack da quelli disponibili a quelli selezionati vedete che appare nella lista di quelli selezionati guardate cosa succede quando clicco done questa è un'altra piccola modifica tecnica cercherò di fare il gioco controllerà che il datapack che abbiamo inserito sia valido e quindi poi se è valido lo aggiungerà effettivamente al mondo mentre se non lo è ci sarà un errore ed eviterà di caricarlo per non corrompere il mondo o far crashare il gioco come vi sto dicendo il trascinare un datapack direttamente sopra il gioco nella schermata di selezione i datapack funziona anche con il resource pack qui ho il resource pack di un datapack di una cosa che stavo provando vario tempo fa vedete lo rilascio direttamente sul gioco e mi chiede vuoi aggiungere questo texture pack questo resource pack al gioco clicco yes e vedete appare sulla lista di quelli disponibili passiamo ora alle novità un pochino più tecniche anche se ne ho lasciato fuori un bel po' per non rendere le cose troppo complicate e il video troppo lungo il gioco adesso proverà a aggiustare i mondi creati nella 1.16 pre-release numero 1 visto che aveva alcuni problemi durante la generazione che potevano e anzi corrompevano il mondo adesso inoltre è possibile creare ricette di crafting personalizzate per la smiting table questa qui perché non se la ricordasse quello che permette è di creare gli strumenti di netherite utilizzando gli strumenti di diamante che già abbiamo per creare una ricetta di crafting personalizzata si può utilizzare un semplicissimo data pack all'interno della ricetta bisognerà specificare l'oggetto iniziale l'oggetto di infusione l'oggetto con cui vogliamo potenziare il nostro strumento e l'oggetto finale come avete visto anche prima il gioco adesso controllerà quando verranno giunti dei data pack e controllerà che non siano presenti errori critici all'apertura di un mondo contenente dei data pack per evitare che il mondo venga corrotto o il gioco crash come stavamo dicendo prima nel caso li trovi ovviamente darà un avviso all'utente e dirà ehi guarda che questo mondo contiene dei data pack che non possono essere caricati perché hanno dei problemi probabilmente dirà anche i problemi all'interno dei log e ci farà tornare direttamente alla schermata di selezione del mondo altro cambiamento per i data pack adesso i data pack possono contenere due nuove cartelle che sono dimension type e dimension quindi tramite i data pack sarà possibile aggiungere dimensioni personalizzate e tipi di dimensioni che sono delle specifiche all'interno delle dimensioni sono particolari ho già detto che ci farò un video se volete sapere le cose più nel dettaglio ma è una cosa abbastanza complessa quindi ci sto ancora lavorando io stesso bene io ho terminato tutto quello che ho da dire all'interno di questo video ovviamente ci sono anche alcune piccolezze che ho voluto lasciare fuori per dare spazio alle cose davvero importanti se ovviamente volete approfondire vi ricordo che tutti i changelog sono disponibili sul sito di minecraft attenzione che la pre-release 1 e 2 sono all'interno della stessa notizia perché la 2 è uscita subito dopo per risolvere i problemi che aveva la 1 in particolare quello della creazione del mondo e detto questo spero di avervi intrattenuto e di avervi interessato con i cambiamenti che sta portando la mojang a minecraft e di tutte le novità che avrà questo nether update ormai dietro l'angolo quindi se il video è piaciuto lasciate un like commentate e iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima puntata di minecraft snapshot sempre se ovviamente usciranno altre pre-release prima del rilascio ufficiale ciao 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 ciao